Fissavano gli appuntamenti per prendere un caffè o un aperitivo, in realtà però il vero scopo dell'incontro era vendere dosi di cocaina ed hashish. Lo spaccio è stato però interrotto dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno che hanno eseguito in questo senso una ordinanza cautelare con cui il GIP, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, dottoressa Silvia Romeo, ha disposto il divieto di dimora a Figline di Incisa Valdarno nei confronti di tre valdarnesi di 37, 20 e 25 anni, ritenuti appunto colpevoli di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Le indagini e l'attività investigativa, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, sono partite sei mesi fa dopo l'aggressione subita dalla titolare di un negozio. I carabinieri così hanno ricostruito nel dettaglio le attività di spaccio, principalmente cocaina ed hashish, come detto, che i tre indagati conducevano nella Valdarno Fiorentino ed Aretino, dissimulando gli incontri con i loro acquirenti come appuntamenti per caffè ed aperitivi vari. Nel corso delle indagini, i carabinieri della stazione figlinese hanno anche identificato numerose acquirenti e sequestrato numerose dosi di droga.